Uccide la moglie malata strangolando la mani nude e poi tenta, senza riuscirci, di suicidarsi ingerendo medicinali. Questa volta, ad essere vittima della furia omicida intrafamiliare, è stata Rita Talamelli, 66 anni, uccisa dal marito Angelo Spuggiti, di 70 anni, in una villetta schiera di via Montefeltro, nelle periferie afanese del quartiere Poderino. A trovare la donna esanime in camera da letto e il marito assassino ancora in stato di coscienza, è stato ieri sera il figlio della coppia, arrivato attorno alle 20.30 nell'abitazione, preoccupato dalle mancate risposte al telefono dei genitori. Si è però trovato al cospetto della più sconcertante delle scene e avvertito subito polizia e 118. I medici però non hanno potuto far altro che constatare il decesso della donna e trasferire Angelo Spuggiti all'ospedale Santa Croce, dove è tuttora ricoverato, piantonato con l'accusa di omicidio volontario e dove non risulterebbe in pericolo di vita. Rita Talamelli invece era morta da alcune ore rispetto al momento del suo ritrovamento. Bisognerà però attendere l'esito dell'autopsia per chiarire un altro sconcertante femminicidio avvenuto a pochi giorni dal caso di Giulia Cecchettine che ha scolso l'Italia e in vista del 25 novembre, giornata internazionale della violenza sulle donne. Una giornata alla quale si arriverà col quarto femminicidio nelle Marche di questo 2023, il secondo a Fano a distanza di un anno dall'omicidio di Anastasia Lashri. Angelo Spuggiti, ora pensionato, era noto a Fano per essere stato il titolare della pizzeria da Angelo di Cucurano. Sembra che la moglie soffrisse da tempo di problemi psichiatrici aggravatisi nell'ultimo periodo. Questo il contorno familiare di una complessa esasperazione che ha portato a un omicidio, il cui momento però resta tuttora al vaglio degli inquirenti.